Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Marluigi Partners in Time A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo saliti sull'astronave che vedete là sopra E abbiamo abbattuto la difesa aerea del castello Il che finalmente ci permetterà di passare da queste parti Comunque ho appena realizzato che se questo non è comunque il punto in cui Bowser nel futuro, ricordiamolo, rompe il ponte Vuol dire che questo pezzo di ponte aveva un difetto di fabbricazione già dai tempi Quindi prima o poi sarebbe crollato, quindi qualcuno prima o poi sarebbe morto Complimenti Allora, visto che siamo già qua, prima di avanzare per la strada giusta Io entrerei in questi due tubi E vedrei dove ci portano Allora, il primo, questo qua sopra Ci riporta all'entrata Perfetto Entrata che sfrutterei già ora Tra l'altro ho detto una bugia Ho detto una bugia Non era di là, il pezzo rotto era questo Sono stupido io, uno, ma due vuol dire che comunque questo ponte è fatto di merda Cioè se si spezza qui e lì vuol dire che chi l'ha progettato era veramente un gaiofo Allora, 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 non ho bisogno di tanti strumenti di cura in realtà Ma voglio abusare un po' del mio potere Per comprare Facciamo 32 fiori mix Che tanto ne troveremo altri Facciamo altri 22 fiori clone Trampolini No, però i bombardoni A parte che costano un cazzo Ti direi che una buona scorta Me li farei Magari non 50 Visto che non è che ne servono chissà quanti Però Una quarantina Può essere buono E in tutto questo stiamo per diventare poveri Fiori di ghiaccio ne abbiamo Quindi non mi sprecherei troppo Abbiamo ancora 3400 Ma in realtà stiamo a posto Magari Mi compro 7 funghi max Ma giusto Esatto Per spendere qualcosa Perfetto E anche baby mario è salito di livello Va bene 5 punti vita Ci sto Ottimo Anche mario è salito di livello Vedo un 5 in punti attacco Benissimo Oh che soddisfazione Vai gigi Tu Ti aumento Non lo so Oh finalmente Bravo gigi Vedevo troppi uno Però volevo quel 5 Ho dovuto capire quanti uno ci fossero Effettivamente Fra quell'uno e quel 5 Vieni qua Comunque Ho notato Vuoi il cambio Anche dello strumento Dell'equipaggiamento Vuoi anche l'aumento della nostra difesa Però Nemici del genere Ci fanno A parte quando diventa un tuomp Ci fanno 15 di danno Quando fanno il guscio 8 Secondo me A livello di danni Ci siamo A livello di difesa Siamo un attimo Sull'attenti Ma Nonostante quello che ho detto Che secondo me Ed è così Siamo Un po' sotto di livello Ma È il gioco che ha fatto così E Me ne rendo conto Aiuto Come facevo a capire Quando fa uno E quando fa l'altro Vabbè Comunque Mi sembra che A livello di difesa Appunto Dobbiamo stare sull'attenti Ma Ci siamo Benissimo Baby Mari è salito di livello Bene 5 di difesa Mi piace Baby Gigi Che ti aumenta A te Mi sembra che Baby Gigi È più avanti Di statistico Sbaglio Ok 4 di difesa Mi va bene Così Baby Gigi È a 100 di difesa Ok Non me l'aspettavo Ma anche Mari è salito di livello Sì se ve lo state chiedendo Sto rifacendo tutto il piano Per aumentare di livello Bene 5 di velocità Anche se non ci serve Ma è per far aumentare Le altre statistiche A Gigi Servirebbe Della velocità Ad esempio Questo 5 è buono Questo 5 non è male Contro ogni logica Qualcuno penserebbe Che Luigi È più veloce di Mario Si sbaglia So che per voi È passato Veramente pochissimo tempo Per me è già passata Mezz'ora Che mi sono messo qui Ad allenare tutti quanti Però Finalmente Possiamo passare Dall'altro lato Ottimo Baby Mari Salito di livello Perfetto 5 di attacco Tutto uno Beccati sto 5 di difesa Ora invece con quest'altro tubo A rigor di logica Dovremmo arrivare Dalla zona di qua Per voi Per me È di qua È sempre speculare Quello che vedo E quello che Riflette la telecamera No siamo Addirittura Il piano superiore Non male Mi aspettavo qualcosa di meglio Dall'altro Ma Non si può pretendere Troppo Giusto 10 monete Qua Qui dobbiamo fare Qualche Qualche giochino Per riuscire a salire Vero Ad esempio Qua dobbiamo Sfruttare Beh In realtà Basterebbe Buttarli qua Cioè Non penso che serva Farsi tutto il giro Ecco Fatto In realtà No Sono stupido Perché In realtà Il giro Bisogna farlo Veramente Perché Ci vanno Gli adulti Qui Vai qua Perfetto Ok Uno Non ci arrivo Non ci arrivo Questo vuol dire Che Questo vuol dire Che Dobbiamo far arrivare I bimbi di là Vediamo Se ci arrivano Perfetto Ok Quindi ci hanno alzato Il piedistico Piedistallo Eccoci qua E L'ultimo blocco Attivato Che attiva Il bottone Per i bambini Che attiverà Non ne ho idea Boh Scopriamolo subito Che cosa attivi Ok Ha abbassato Il piedistallo Diviso Fra i bimbi E gli adulti Bimbi qua sopra Uno Due No Ecco fatto Vai Ecco qua A posto E abbiamo aperto Il sottogonna Della Principessa Shrub Non che ci sia Molto da spiare Però Allora Ehi Quella Peach Eccola Ma Che fa Pare che non riesca Ne a vederci Ne a sentirci Peach Clic 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 Ci penso io Perca di questo Questa voce Mario È venuto a salvarmi Chi sente Forse la martellata Ha aggiustato i circuiti Mi tengo a prigioniere In una stanza in cima Alla statua Ma Come farete La trasmissione Si è Interrotta Sembra che il monitor Si è danneggiato Comunque ora sappiamo Che la principessa Peach sta bene Credo che quel tubo Porti al livello superiore E Lo dici Con quale certezza Andiamo Avanti È tutto Gas Con quale certezza Lo stai dicendo Allora Fungo 20 monete Mi aspettavo Non lo so Dei gusci È l'unico oggetto Che mi è venuto in mente Vediamo qui 10 monete Ecco Questo È un premio Più interessante Perché Perché Questo Scategnaccio È venuto a rompere Le scatole Eh che cacchio Ma dovevamo salire Wow Esatto Siamo scesi Perché quel test Scategnato Ci ha fatto scendere Che cacchio Dovremmo sistemare i tubi Siamo idraulici Va bene Allora Noi ci salutiamo qui invece Siamo Nella cantina Del castello Di Peach Quindi signori Vi ringrazio tutti Per avermi seguito Come non so se avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti